Sì Sì Che c'è? L'aceto dei sette lati ci siamo dimenticati di comprarlo Fa niente E se poi ti viene il mal di testa? Andiamo No, ci vado io, faccio un salto e ti raggiungo Grazie caro Tu va a casa Allora a presto Ciao Ciao Non fare tardi No, torno subito Allora a presto